Oltre il confine, il film del regista leccese Alessandro Valenti ha schiuso le porte del nuovo anno accademico del corso di laurea dell'Università del Salento, facente parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Governance Euro-Mediterranea delle Politiche Migratorie. Il corso di laurea della Presidente, la Professoressa Eliana Agusti, risulta l'unico del suo genere in Italia, fornendo strumenti quantomai necessari per affrontare temi sempre più attuali. Il corso in Governance Euro-Mediterranea delle Politiche Migratorie è un corso che è nato nel 2019, ha un'intuizione e una richiesta anche del territorio, il mondo del terzo settore è un mondo estremamente dinamico, che ha bisogno anche di un affiancamento dal punto di vista della formazione. Quindi l'Università cerca di colmare questa lacuna offrendo una formazione d'eccellenza magistrale, nel caso specifico del nostro corso di laurea, dando la possibilità a chi già opera nel mondo dell'accoglienza, dell'integrazione, di perfezionare il suo percorso professionale. E questo ci mette anche nella condizione di offrire una didattica che si muove tra teoria e pratica in maniera molto dinamica.